Le persone le conoscevo, chi più chi meno, quindi non c'è stato un vero problema in termini di comunicazione. Siamo andati anche abbastanza spediti, sicuramente diciamo che in quella in presenza poteva andare a essere più interattiva tra di noi in termini proprio a livello manuale, quindi proprio come design thinking, quello che è tutta la parte di costruzione attraverso proprio la costruzione di prototipi. Però diciamo che la collaborazione c'è stata, è stata buona. Da una parte sì, abbiamo lavorato molto di più, questo è vero. Dall'altra parte abbiamo trovato il modo di superare questo limite, secondo me. Ce l'abbiamo fatta. Perché ti ripeto, il fatto di di non spegnere i microfoni, pure quando lavoravamo separatamente, perché c'erano quei momenti dove ognuno di noi doveva lavorare separatamente. E mai nessuno ha spento il microfono, la telecamera. Quindi è come se noi siamo andati oltre il video, cioè essere lì sempre presenti.